È arrivata AppPen, la rivoluzionaria penna interattiva per bambini che permette di disegnare, giocare e apprendere su tablet e smartphone. AppPen è la prima penna a contratto regolabile alla pressione, che funziona senza fila e ha lo speaker integrato. Scarica l'app gratuita, connetti la penna, scegli l'età del bambino ed entra nel mondo AppPen. Ci sono tante cornici da selezionare e colora scegliendo tra gli strumenti disponibili. Utilizza gli stickers animati per personalizzare il tuo disegno. Condividi e invia i tuoi progressi d'artista. Con AppPen i bambini imparano a scrivere e a contare e per giocare, infine, AppPen si trasforma anche in joystick. AppPen, la penna per disegnare, apprendere e giocare. È arrivata AppPen, la rivoluzionaria penna interattiva per bambini che permette di disegnare AppPen. AppPen.